salve care amiche e cari amici vi devo ringraziare perché assieme siamo riusciti a superare le 700.000 visualizzazioni ecco che sono venuto qua un attimino in una zona meno esposta al sole perché con questo mio vecchio cellulare nokia asia 302 è un problema a filmarsi poi soprattutto fuori casa guarda come mi tocca andare in giro io che sono elegante a me dove a succedere ma d'altra parte non bisogna ammalarsi quindi indossate la mascherina allora care amiche ed amici vi ringrazia il vostro santin chan e da molto che volevo fare questo video da quando avevo superato le 600 mila visualizzazioni non so se non fatto uno ma adesso siamo arrivati a superare le 700 mila visualizzazioni ebbene sì siamo arrivati a 703 mila e passa visualizzazione che poi non serve a niente perché di una volta credevo che se raggiungevi un milione di visualizzazioni succedeva chissà che cosa invece abbiamo raggiunto e superato le 700 mila visualizzazioni e non me ne è venuto niente a parte la soddisfazione che mi hanno visto in tante persone tanti di voi poi a volte succede che mi mette youtube qualche commentario in spam oppure il non letto e io lo vado a commentare si cancella non so se sarà il mio vecchio computer il mio vecchio cellulare e vi chiedo scusa se qualche vostro commentario sparisce non sono io che lo cancello ma youtube mi dice controllare questi commentari e io lo accetto e poi non lo trovo tra i commentari in chiaro capito quindi evidentemente youtube qualche commentario lo cancella siate indulgenti se per esempio non vi rispondo a dei commenti perché ci sono questi inconvenienti ultimamente dice commenti da controllare io gli do la spunta no l'ok e poi invece me lo cancella e non lo trovo più tra i commenti che devo rispondere e non so che cosa gli succede a youtube fa delle cose strane ultimamente comunque questo doveva essere un video molto breve per dargli il formato grande grazie per avermi fatto superare raggiungere superare le 700.000 visualizzazioni e comunque buon natale buon anno nuovo non so quando metterò questo questa premiere programmata ciao ciao